Mentre scrivete vi sentite un premio strega, ma quando rileggete vi sentite un troll? Vi sentite bloccati nella trama, come un'utilitaria bloccata nel traffico? Vi sembra di usare sempre le stesse parole? Parole stanche? Parole ritrite? Frasi fatte male da altri? Quindi, tramite una serie di esercizi molto concreti, questo corso vi permetterà di esorcizzare, spero, la paura di scrivere male e soprattutto di lavorare con l'ansia di diminuire quell'ansia che troppo spesso ci obnubila, ci acceca, ci impedisce di vedere quanti sono i modi in cui possiamo raccontare una cosa. Io sono Giulia Lombezzi e vi aspetto al corso online della Scuola Holden. Non so come dirlo. Grazie a tutti.